Libro 7 Patron Minette Capitolo 1 Le miniere e i minatori Anche le società umane hanno quello che nei teatri si chiama il sottoscena. Il suolo sociale è scavato da ogni parte, ora per il bene, ora per il male. Questi lavori si sovrappongono. Ci sono le miniere inferiori e le miniere superiori. C'è un alto e basso in quel tenebroso sottosuolo che talvolta crolla sotto la civiltà e che è calpestato dalla nostra indifferenza e dalla nostra non curanza. L'enciclopedia nel secolo scorso fu una miniera quasi a cielo scoperto. Le tenebre, tetre incubatrici del cristianesimo primitivo, aspettavano solo un'occasione per esplodere sotto i cesari e inondare di luce il genere umano. Infatti, nelle tenebre sacre c'è una luce nascosta. I vulcani sono pieni di un'ombra capace di fiammeggiare e ogni lava comincia con l'essere tenebra. Le catacombe, nelle quali si celebrò la prima messa, non erano solo le cantine di Roma, ma il sotterraneo del mondo. Al di sotto dell'edificio sociale, meraviglioso e meschino insieme, ci sono le scavazioni d'ogni specie. C'è la miniera religiosa, la miniera filosofica, la politica, l'economica e la rivoluzionaria. Chi scava con le idee, chi con le cifre, chi con la collera e si richiamano e si rispondono da ogni catacomba all'altra. Le utopie camminano sottoterra, in quei cunicoli e si ramificano in ogni direzione. Alle volte si incontrano e fraternizzano. Jean-Jacques presta il suo piccone a Diogene che gli presta la sua lanterna. Talvolta, invece, si combattono. Calvino prende Soccino per i capelli, ma nulla arresta o interrompe la tensione di tutte quelle energie verso lo scopo. È la vasta simultanea attività che va e viene, sale, scende, risale per quelle oscurità, immenso brulicame, ignorato, che trasforma lentamente il di sopra per mezzo del di sotto e il di fuori per mezzo del di dentro. La società ha appena qualche sospetto di quelle escavazioni che le lasciano intatta la superficie, ma le cambiano i visceri. Quanti sono gli strati di sotterranei? Altrettanti sono i diversi lavori, altrettante le varie escavazioni. E che cosa scaturisce da quelle ricerche profonde? L'avvenire. Più si va giù e più i lavoratori sono misteriosi. Fino a un certo grado che il filosofo sociale sa discernere, il lavoro è utile. Al di là di quel grado è dubbio e ibrido. Più giù diventa orribile. A una certa profondità le escavazioni non sono più penetrabili dallo spirito dell'incivilimento. Il limite respirabile e sorpassato comincia a essere possibile un inizio di mostri. La scala discendente è strana. Ogni gradino corrisponde a un piano sul quale la filosofia può prendere piede e dove si incontra uno di quegli operai talvolta divini e talvolta deformi. Sotto Jeanne Huss c'è Lutero. Sotto Lutero, Cartesio. Sotto Cartesio, Voltaire. Sotto Voltaire, Condorsi. Sotto Condorsi, c'è Robespierre. Sotto Robespierre, Marat. Sotto Marat, Babbeuf. E l'elenco continua. Più giù, in modo confuso, sul limite che divide l'indistinto dall'invisibile, si scorgono altri uomini oscuri che forse non esistono ancora. Quelli di ieri sono spettri, quelli di domani larve e l'occhio della mente li distingue confusamente. Il lavoro embrionale dell'avvenire è una delle visioni del filosofo. Un mondo nel limbo allo stato di embrione. Che profilo inaudito. Saint-Simon, Owen, Fourier, ci sono anch'essi, ma in escavazioni laterali. Certo, benché una divina invisibile catena leghi gli uni agli altri a loro insaputa, tutti questi sotterrani pionieri che si credono quasi sempre isolati, mentre non lo sono. I loro lavori sono assai diversi e la luce degli uni contrasta con lo splendore degli altri. Gli uni sono paradisiaci, gli altri tragici. Eppure, per quanto sia grande il loro contrasto, tutti questi operai, dal più elevato al più notturno, dal più saggio al più pazzo, hanno un punto di contatto. Il disinteresse. Marà dimentica se stesso come Gesù. Essi lasciano in disparte la loro persona, non guardano a loro, vedono tutt'altro che il loro io. Hanno uno sguardo e quello sguardo cerca l'assoluto. Il primo ha tutto il cielo negli occhi, l'altro, per quanto enigmatico, ha ancora negli occhi il pallido chiarore dell'infinito. Venerate sempre che che faccia chiunque abbia questo segno. Una stella per pupilla. La pupilla oscura è l'altro segno. Da essa comincia il male. Davanti a chi non ha lo sguardo, riflettete e tremate. L'ordine sociale ha i suoi minatori neri. C'è un punto in cui la profondità è seppellimento, in cui la luce si spegne. Al di sotto di tutte le miniere cui abbiamo accennato, al di sotto di tutte quelle gallerie, al di sotto di tutto il sistema venoso sotterraneo del progresso e dell'utopia, più addentro nella terra, più giù di Marat, più giù di Babbeuf, più giù, molto più giù, e senza nessuna relazione con i piani superiori, c'è l'ultimo cunicolo. Un luogo formidabile. Quello che noi abbiamo chiamato il sottoscena è la fossa delle tenebre, il sotterraneo dei ciechi. Inferi. Questo luogo comunica con gli abissi.